un aggiornamento sull'accetta della virginia avevo fatto la recensione qualche tempo fa oggi lavorando in giardino volevo usarla per tagliare qualche piccolo ramo perché qui siamo cioè questa è una pianta di lauro da recensione e volevo tagliare qualche ramo che sporgeva come si può vedere la lama però non ha resistito probabilmente magari un colpo arrivato per traverso oppure non so cosa dire comunque come si può vedere il metallo si è spezzato quindi bisogna fare attenzione a utilizzarla la lama taglia però in punta è parecchio sottile quindi bisogna tener conto che un eventuale colpo dato in un certo modo può causare questo cercherò di ripararla adesso vediamo un po' se si riesce ok è tutto